Allora, buongiorno ragazzi, video a freddo dopo il post-gara, subito dopo la fine di Juve Stoccarda ieri sera. Prima sconfitta stagionale per la Juve di Motta, prima sconfitta per Motta sulla panchina della Juventus in gare ufficiali. Voglio essere breve perché poi tutto quello che ho detto della partita non ci torno e se volete andate a vedere il video di ieri vi metto anche il link qua sotto se volete. Andateci, cliccate il link e guardate il video, oppure tanto sta qua sotto, non serve manco che scorrete tantissimo ovviamente. Dico solo, voglio andare a toccare quattro punti. La prima è l'ammissione di responsabilità di Tiago Motta e devo dire ho apprezzato perché comunque quando un allenatore sbaglia è giusto che vada davanti al microfono a dire ho sbagliato, mi assumo tutta la responsabilità come fanno tutti gli allenatori almeno anche poi in Europa, visto Guardiola quando sbaglia dice la colpa è la mia, per fare un esempio. Così come anche tutti gli allenatori, no? Normalmente quando gli allenatori sbagliano non dicono mai la colpa è stata dei ragazzi come faceva qualcun altro fino all'anno scorso. Ogni riferimento a persone è cosa puramente casuale. Ieri Tiago Motta è andato davanti al microfono a dire la colpa è stata la mia, non ci ho capito niente. Anche in conferenza stampa poi ha ribadito questo, che la Juventus non gli è piaciuta, anche e soprattutto poi considerazione mia che faccio perché non ha avuto il pallino del gioco come aveva anche detto nelle ultime due partite, no? Prima delle ultime due partite aveva detto avere il pallino del gioco è fondamentale e tu ieri il pallino del gioco nonostante poi il possesso palla fossi 51 a 49 per lo Stoccarda ti sei fatto palleggiare in faccia da loro per 97-98 minuti perché poi uno ti recupero nel primo tempo, 7 nel secondo, 98 minuti ti sei fatto palleggiare in faccia dallo Stoccarda. E questo è una cosa che non è ammissibile perché poi c'è da dire anche che, altro punto, queste sono partite da non perdere. Cioè tu con lo Stoccarda in casa, in Champions, con tutto il rispetto e ripeto, ieri lo Stoccarda ha meritato, strameritato di vincere ma queste sono partite che tu non puoi perdere. È vero che lo Stoccarda ha messo in difficoltà il Real Madrid, ha messo in difficoltà e dopo è crollata contro il Bayern Monaco in Bundesliga. È una squadra che prende un sacco di gol in Bundesliga, non mi ricordo neanche che posizione sta, comunque non mi pare che sia tra le prime. L'anno scorso è arrivata seconda, mi pare, subito dopo il Bayern Leverkusen e quindi addirittura sopra il Bayern Monaco. Quindi comunque non è che siano proprio nessuno nessuno, però chiaramente tu sei la Juventus in casa tua contro lo Stoccarda, devi fare, potevi, dovevi fare di meglio, dovevi prepararla meglio. Qui ritorniamo sempre a Tiago Motta, Tiago Motta doveva prepararla meglio. L'ha detto lui d'altronde, il pallino del gioco è importante, siamo due squadre che ci piace comandare il gioco, vedremo chi la spunterà. Ma tu hai lasciato solo il pallino del gioco in mano a loro? Poi nel secondo tempo hai sfruttato qualche ripartenza, l'ho detto anche ieri, ma poi negli ultimi 20-30 metri c'è un problema di finalizzazione grande come una casa. Cioè noi non riusciamo a tirare in porta, non riusciamo ad arrivare a, non riusciamo poi, come ho detto sempre, a scardinare difese chiuse. Le difese quelle un po' più organizzate, difese chiuse, noi non riusciamo a scardinare perché non facciamo movimenti senza palla. E questo è molto male perché se tu ieri, pure che non controllavi il gioco ma facevi il tuo, e questo è il terzo punto, tu queste partite non le perdevi, o quantomeno avevi meno possibilità di perderle. Perché se tu, e l'ho detto anche ieri sera, se tu ieri perdevi con le tue idee, se tu ieri comunque vedevamo una partita, ripeto, pure che non comandavi ma una partita bilanciata, azioni da una parte e dall'altra, tu facevi, non dico 20 tiri, 10 in porta come ha fatto lo Stoccarda, e noi 7 totali, uno solo nello specchio, che è scandaloso, fazze mette in casa sotto dallo Stoccarda, è veramente scandaloso, scandaloso. Se tu ieri comunque facevi una partita equilibrata, azioni da una parte e dall'altra, poi loro vincevano per il rigore, vincevano per l'episodio, e ripeto, l'ho detto anche ieri sera, finiva così, io ieri sera non ti avrei detto niente, nessuno ti avrebbe criticato, nessuno avrebbe detto, Tiago Motta non ci hai capito niente, anzi avremmo detto, sei stato sfortunato, le partite vanno così, noi abbiamo giocato il nostro calcio, loro sono stati superiori, si stringe la mano, arrivederci, siete stati più bravi. Invece no, invece no, ieri noi abbiamo fatto una partita come se ci fosse ancora seduto lì ad allenare, Massimiliano Allegri. È vero che poi, poi ieri ho detto, ho fatto anche una provocazione, no? Ho detto, beh, a sto punto se sapevamo, tanto per giocare male, per giocare male, ci tenevamo Allegri, no? Ho fatto una mezza provocazione. È vero che anni di nulla, anni di Allegri, anni dove non c'è stato, di calcio di Allegri, dove non c'è stata un'idea di tattica, dove non c'è stata un'idea di gioco, tutto era lasciato al caso, se vinceva 1-0, comunque De Cortomuso, tante partite poi le riprendevamo anche perché poi eri più forte, perché poi sfruttavi il calcio d'angolo, tu ti mettevi in difesa, anche contro le squadre di terza categoria, ed è questo rispetto a te, ed è questo quello che a me non mi piaceva, dove non c'era una trama del gioco, non c'era niente, non c'era uno schema, è vero che non si cancellano facilmente. Questo è vero. E l'ho detto ieri a caldo, ho detto, ho fatto questa provocazione, però a freddo chiaramente uno, un po' più lucido, riflette e dice, sì, è vero che non si cancellano, però è vero anche che io non ho visto miglioramenti. Cioè, a parte le prime due partite che noi abbiamo giocato col Como, col Verona e abbiamo fatto tre pere, dopo che comunque avevamo partiti, avevamo avuto un inizio difficile, poi dopo i primi 20 minuti ci siamo sciolti e l'abbiamo sbloccata, abbiamo fatto un buon calcio, abbiamo giocato davvero a calcio, abbiamo creato occasioni, sì, gli avversari erano quelli che erano, però mi pare che comunque poi come Verona hanno messo in difficoltà anche altre squadre poi, no, nelle giornate successive, in queste ultime giornate anche, va paragonato, va fatto un parallelismo anche con gli avversari che tu avevi di fronte, però comunque tu avevi giocato un bel calcio, poi dopo che una volta che hai sbloccato la partita l'hai messo in difficoltà. E poi quelle partite che tu non hai sbloccato sono finite 0-0 a parte quella col Cagliari, no? E questo è, cioè, se noi ieri, tornando al discorso di prima, vedevamo una squadra che comunque giocava a calcio, comunque proponeva qualcosa, vedevamo una partita più equilibrata, vedevamo una Juve che comunque stava sul pezzo, poi perdi e nel calcio ci sta, nel calcio se vince se perde, è normale, è fisiologico, però mi fa, mi ha fatto arrabbiare e io stanotte, piccola parentesi, non c'ho manco tanto dormito per questo e devo dire, da una parte è buono perché le emozioni sono tornate con la Juventus, dall'altra potete capire che non è positivo, no? E' questo che a me mi ha fatto arrabbiare, che proprio tu non hai giocato, e l'ho detto anche ieri sera, perché io non t'avrei proprio detto niente, anzi t'avrei fatto gli applausi se tu avessi perso 1, 2, 0, pure se avessi perso 20 a 0, ma tu, se tu avessi fatto il tuo, se tu avessi, se la Juve, se fosse vista proporre il calcio che Tiago Motta dovrebbe insegnargli, io non avrei detto niente a Tiago Motta, io non avrei detto niente, pur avessimo perso 20 a 0, non gli avrei detto niente, ma perde 20 a 0, un conto è perde 20 a 0 con tutti i rintanati in difesa, con tu che non c'hai un'idea, un conto è perde 20 a 0 perché tu sei sfortunato, perché tu crei, ma si vede che le idee ci stanno, prima o poi a frutto verranno, prima o poi sarai in grado di vincere, non te poddi sempre male, se tu c'hai il pallino del gioco, se tu hai idea di quello che devi fare con la palla, prima o poi i risultati si avranno, un conto è, cioè, modo è modo di perdere, è questo che noi negli anni abbiamo sempre detto, però ieri si è vista una Juve che ha perso come perdeva anche Allegri, anche partite banalissime, come perdeva con l'Empoli, come perdeva con l'Udinese, specie negli ultimi tre anni, perché poi i primi cinque non li calcolo per niente, io mi focalizzo sugli ultimi tre, è questo che a me mi ha fatto arrabbiare e ci ha fatto arrabbiare, e queste sono partite che tu non devi perdere, e questo è l'ultimo punto, partite che tu non devi perdere anche per una questione di classifica, perché poi c'è il girone unico, è una classifica unica, adesso in solitaria l'Aston Villa, 9 punti a punteggio pieno, noi restiamo a 6, adesso non mi ricordo neanche che posizione stiamo, sinceramente me ne fega poco, sono partite da non perdere, specialmente poi ieri sera, io poi ho detto, ho andato a scardinare l'equilibrio, cioè ieri c'aveva Gatti in panchina e mi ha messo Rui, già un equilibrio così sottile che tu poco poco lo cambi, rischi di affossare, tu poi non solo lo scardini questo equilibrio, mi metti pure Rui al posto dei Gatti, mi metti Savona che ieri non ha azzeccato una diagonale difensiva, non ha azzeccato un duello manco per niente, su uno rischiavamo di prendere gol alla fine del primo tempo che Perin ha fatto quella parata, San Perin perché ieri potevamo perdere 4-0, 4-0 minimo per quanto abbiamo fatto schifo, è un equilibrio così sottile e tu mi vai a mettere Rui magari al posto dei Gatti, che te teneva anche la difesa, male che vada te porti lo 0-0, avrei detto che abbiamo fatto schifo uguale ma perlomeno te porti lo 0-0, è importante dal punto di vista della differenza reti, dal punto di vista dei punti in sé, proprio per questa classifica unica, e male che vada, il male minore va, cioè bisogna lavorare per il male minore, quando si tratta in questi casi che tu non sai come venirne a capo, dice male che vada mi porto lo 0-0, perché purtroppo ci sono delle situazioni in cui va ragionato così, ieri sera purtroppo per come si era messo, ieri potevamo, anche poi per l'espulsione, per tutta una serie di cose, ieri se portavamo lo 0-0 ci aveva detto delusso, e tu mi metti Rui e non mi metti Gatti, mi metti Tirolale Savona che già a fatica può giocare in Serie A e non mi metti Cambiaso, mi tieni in panchina Cambiaso, cambi 50.000 giocatori a partita, quei 4-5-6 li cambi sempre, ma come se possano amalgamarsi i giocatori? Cioè io non lo so, gli esperimenti di fare le prime 2-3-4 partite come ho detto anche ieri sera, ma poi la formazione deve essere quella, poi cambia 1-2 a differenza poi, cioè quello è squalificato, quello è infortunato, ci sta che cambi, ovviamente la situazione ti porta a cambiare, ma quei 9-10 devono essere gli stessi, devono essere gli stessi, 8-9-10 devono essere quelli, e non è possibile cambiare 4-5 giocatori a partita, dopo 4 mesi, dopo 4 mesi di Diago Motta, noi ancora non abbiamo visto una formazione tipo, non abbiamo visto ancora una formazione tipo sempre che cambia, sempre che cambia, e questi quando si amalgamano? Non si amalgamano mai, no? Chiaramente. a parte le prime 2 partite abbiamo visto passi indietro, no passi in avanti, passi indietro, le prime 2-3 partite per l'entusiasmo, per l'entusiasmo dell'allenatore nuovo, il nuovo ambiente, io ho sempre detto, quello è una componente, ecco perché tante squadre poi fanno 2-3 partite bene, e poi si sciolgono come ne va il sole, probabilmente per un fatto di mentalità, perché poi si assopiscono alla nuova realtà, tendono poi ad assorbire la nuova realtà, e quindi non hanno più questa fase di entusiasmo, e tendono più a non giocare magari bene come avevi giocato tante delle partite precedenti, e questo è evidente, perché con l'Empoli, pure stessa cosa, stesso discorso con l'Empoli, allora, prima giochi bene con Verona e col Como, ripeto, fai bene, poi arrivi con la Roma, arrivi con l'Empoli, con avversari comunque, che comunque, con tutto il rispetto, rispetto a te, sono inferiori, con la Roma te la giochi, va bene, ma con l'Empoli, anche se ha giocato comunque, il solo ha fatto, comunque tu sei superiore anche a uomini, non lo so, cioè io ho visto passi indietro rispetto alle primissime giornate, e questo non deve essere, non deve essere, quindi Tiago Motta, l'ho detto anche ieri, o te dà una svegliata, o te dà una svegliata, perché ieri sera l'hai persa, solo e unicamente tu, con i cambi, con la gestione della partita, con la preparazione della partita, ieri sera non ci hai capito niente, e ripeto, non è Motta Out, perché Motta Out lo dirò da gennaio, se è necessario, però, ieri sera mi hai fatto veramente salta ai nervi, ci hai fatto salta ai nervi, perché ieri sera veramente, ero un bestialito, oggi sono arrabbiato, ma non come ieri sera, quindi, o te dai una svegliata, o insegna a sti ragazzi, un calcio decente, come quello che, e quando fanno male, tu gli dai le strigliate negli spogliatori, specie da prima e nel secondo tempo, che diano una scossa, noi che facciamo schifo il primo, e facciamo schifo il secondo, quindi, cominciamoci a svegliare, perché sennò veramente prendiamo una brutta piega, eh, e sono coerente, cioè, Tiago Motta, lo dico, Tiago Motta sta facendo male, c'era Allegri, io dicevo le stesse cose, eppure peggio, perché lui ci sarebbe stato quest'anno da quattro anni, sarebbe tornato, quindi sarebbe stato anche peggio, però, Tiago Motta, quando sbaglia, è giusto criticare, ho visto tanti che hanno detto, è eccessivo criticare Tiago Motta, no, è eccessivo manco per niente, quando sbaglia, una persona, quando sbaglia, si deve riconoscere, nessuno gli sta facendo, nessuno gli sta dicendo che deve levarsi dalle scatole, però, quando sbaglia, è giusto che venga detto, Tiago Motta non ci ha capito un cazzo ieri sera, ed è giusto che venga detto, è una partita che io spero, una cosa del genere, non si ripeta più, in qualsiasi competizione, io non voglio vedere una Juve, quest'anno, e per i prossimi anni, non voglio vedere una Juve che gioca così, e si fa mettere le palle in testa, da una squadra sulla carta inferiore, poi c'ha buona individualità, ma sulla, sulla, sulla carta, è una squadra inferiore a te, che tu ieri sera in casa tua, dovevi fare, almeno un'onesta figura, questo è quello che mi fa veramente arrabbiare, e con questo, chiudo il video, e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, e ci vediamo alla prossima,